Corciano, posto su un colle, è un comune umbro della provincia di Perugia, i cui abitanti sono detti corcianesi e il patrono è San Michele. Maria Sticco, scrittice corcianese del 1950, nel Il segreto di Assisi, così scrisse, gli uomini pratici dicono che Corciano è un paese povero. Dicono anche, sotto voce, che i corcianesi sono indolenti. Ebbene, benedetta la povertà se conserva le linee dell'antica bellezza, impedendo demolizioni inconsulte e costruzioni oripilanti. E benedetta, una volta tanto, l'indolenza se, nella moderna febbre di azione, salva le abitudini contemplative e conferisce al paese e ai suoi abitanti quella cortesia sincera e perciò discreta che dice all'ospite, riposa. E poi, chi vorrà credere il povero un angolo della terra che possiede questi due tesori? La pura bellezza e la introvabile pace? L'origine del nome è da ricercare nel nome proprio latino curcius, oppure coricius o ancora coricius, riferibile al proprietario di un fondo rustico. La tradizione popolare vuole, invece, che Corciano significhi cuore di Giano o colle di Giano. Nel conto di Corciano e di Perugia, leggenda cavalleresca del 1300, il nome deriva da Coragino, mitico fondatore del castello di Corciano e compagno di Ulisse. Nel 600 a.C. il territorio fu abitato dagli etruschi e poi dai romani, che vi costruirono grandi aziende agricole dette ville. Nel 1136 il castrum di Corciano è citato fra i possedimenti che Papa Innocenzo II conferma al vescovo di Perugia. Nel 1223 San Francesco, di ritorno dall'isola maggiore sul lago Trasimeno, dove aveva trascorso la quaresima, si fermò a Corciano e in ricordo del suo passaggio, secondo la tradizione, venne costruita la chiesa a lui intitolata, la chiesa di San Francesco, poco fuori le mura più antiche. Nel 1282 Corciano fu una fiorente comunità, costituita, secondo un censimento, da 202 famiglie. Nel 1334, con una bolla pontificia, Giovanni XXII autorizzava l'edificazione del complesso monastico di Sant'Agostino. Nel 1364 il castello venne saccheggiato dalla Compagnia Bianca al servizio del legato pontificio Egidio Albornoz. Nel 1416 il capitano di Ventura, braccio forte braccio da Montone, espugnò a Corciano dopo un lungo assedio. Nel 1482 venne iniziata la costruzione del torrione di Porta Santa Maria per potenziarne le difese del castello. Nel 1860, il 9 novembre, Corciano entrò a far parte del Regno d'Italia in seguito al plebiscito della provincia di Perugia.